Musica Diminuiscono del 20% i ricoveri negli ospedali di Lecco e Merate Intanto dall'inizio della campagna di profilassi sono state inoculate 67 mila dosi di vaccino Da domani aumentano le linee al Palataurus Nel 2020 è sorpresa turismo in crescita nonostante la pandemia Aumento record di attività e addetti nell'ultimo quadriennio Quasi raggiunti i numeri di Como Rinvenuti nei giorni scorsi a calco tre quadri rubati Erano in un terreno nella parte alta del paese Probabilmente sono stati rubati e abbandonati I vigili cercano i proprietari Anche a Lecco le farmacie aderiscono al progetto Mimosa Per le donne vittime di violenza Disposizione un punto di ascolto all'interno di ogni esercizio Buonasera, ben trovati Nuova edizione del telegiornale di Unica Lecco In apertura parliamo della campagna per la profilassi anti-Covid Ma non solo perché diminuiscono del 20% i ricoveri negli ospedali di Lecco e Merate Insomma una buona notizia finalmente dopo mesi difficili Intanto dall'inizio della campagna di profilassi sono state inoculate 67.000 dosi di vaccino E da domani aumentano le linee di somministrazione al Palataurus Tutti particolari in questo servizio Diminuiscono i malati Covid, aumentano le vaccinazioni Numeri confortanti dalla SST di Lecco 247 pazienti ricoverati al Manzoni e al Mandic Il 20% in meno rispetto a fine marzo 24 in terapia intensiva con 4 posti letto Ancora liberi, non accadeva da mesi 67.000 le dosi di vaccino inoculate fino a questo momento in provincia di Lecco Tutti gli over 80 che avevano aderito E anche quelli che si sono aggiunti strada facendo Sono stati raggiunti almeno con la prima vaccinazione E appunto esattamente 67.935 dosi di vaccino Sono state somministrate nella nostra provincia Per quanto riguarda il Palataurus Che al momento è l'unico in funzione come centro massivo Tre linee al momento Da domani si aprono altre due linee vaccinali al Palataurus Con l'aiuto della clinica Mangioni E da lunedì con l'intervento anche della clinica Talamoni Di altre due linee Per cui da lunedì 19 saremo a sette linee al Palataurus Lunedì aprirà anche il centro alla Tecnoprobe di Cernusco Lombardone Ci sono stati problemi di reperimento delle dosi Ieri qualche disagio, i vaccini sono arrivati in ritardo C'è stato un po' di attesa? Ieri c'è stato un ritardo nella consegna di Pfizer E quindi abbiamo dovuto ricorrere all'aiuto di una SST di Cignori Che ci ha prestato 400 dosi In attesa che arrivasse il vassoio di dosi che doveva arrivare Che è arrivato nel pomeriggio invece che alla mattina E questo ha creato un leggero ritardo Ieri sono arrivate le consegne E quindi ad oggi abbiamo 10.000 Pfizer 7.600 AstraZeneca E 1.200 Moderna Rifiuti di AstraZeneca? Qualche no show c'è stato Ma i rifiuti non sono come quelli che si sentono in giro Direi che è una percentuale abbastanza bassa per il momento C'è ancora una buona adesione Intanto chiuso il punto tampone del bione Gli studenti possono sottoporsi al test in ospedale a Lecco Da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 Salvo preventiva prenotazione Cambiamo argomento Boom per il turismo nel territorio lecchese Nell'ultimo quadriennio Strutture addetti sono cresciute a doppia cifra L'incremento non si è arrestato nemmeno nel 2020 Nonostante la pandemia Lecco scala la classifica regionale e nazionale Ed è sempre più vicina ai numeri di Como Ma il 2021 resta un'incognita Vediamo Le conseguenze della pandemia sul settore in questo 2021 sono ancora difficili da prevedere Ma la speranza è che, se frenata ci sarà, si tratti solo di un rapido stop and go Perché il turismo nel territorio lecchese, nell'ultimo quadriennio, ha corso come una monoposto la Formula 1 Addirittura crescendo, nonostante le difficoltà legate al coronavirus È arrivando quasi ad eguagliare per percentuale di addetti e attività rispetto al totale provinciale I numeri della sponda Comasca Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio all'Ariana, a termine del periodo 2016-2020 Le attività che operano nel settore turistico in provincia di Lecco hanno raggiunto l'8,1% del totale Contro l'8,9% di Como Rispetto a fine 2019, questo è il dato davvero inatteso A fine 2020, nonostante lockdown e limitazioni agli spostamenti Le attività del comparto turistico sono cresciute nelle chiese del 2,2% Mentre sul ramo occidentale dell'Ario sono rimaste sostanzialmente ferme L'incremento rispetto a inizio 2016 è di quasi 11 punti percentuali Lecco scavalca posizioni nella classifica regionale Piazzandosi al quarto posto per incidenza delle localizzazioni turistiche Sul totale delle imprese, alloggi, ristoranti, tour operator Dietro Sondrio, Como e Brescia Superate Pavia, Bergamo e Varese Recuperate 10 posizioni anche nella classifica italiana Sul fronte occupazionale, le imprese, le chiesi e il turismo occupano quasi 8.500 persone L'8,1% del totale Rispetto al 1 gennaio 2016, il numero dei lavoratori nel settore è cresciuto addirittura del 34,4% Più del doppio della media regionale E, incredibile a dirsi, in un 2020 che ha visto un calo generalizzato degli operatori del turismo Meno 6,9% a Como, meno 6,6% in Lombardia, meno 7,4% in Italia Lecco è in controtendenza, registrato un aumento degli addetti dello 0,3% Del resto, nell'ultimo quadriennio, il numero di alloggi a disposizione dei turisti in provincia di Lecco È cresciuto di ben il 64%, i ristoranti del 15%, i tour operator dell'1% Sono diminuiti solo i bar, meno 5,9% Un calo concentrato soprattutto nel 2020, primo anno di pandemia Consuelo e Introbio salgono più di una ventina i comuni della provincia di Lecco Che hanno sottoscritto con la prefettura i patti per la sicurezza Una forma di vigilanza condivisa fra cittadini e forze dell'ordine che sta dando buoni frutti Sono sempre di più i comuni lecchesi che hanno sottoscritto patti per la sicurezza Uno strumento efficace per la lotta della microcriminalità Qual è il suo giudizio su queste iniziative e soprattutto qual è il risultato più concreto che portano per i cittadini? Come forze dell'ordine crediamo molto in questo progetto C'è il controllo di vicinati, i protocolli che abbiamo finora stipulati nella provincia di Lecco Siamo arrivati a 26 comuni aderenti e si stanno ancora più incrementando I comuni che ci chiamano per sottoscrivere questo patto Noi ne vediamo l'utilità Oggi la sicurezza non si può demandare solo ed esclusivamente alle forze dell'ordine Occorre credere in una sicurezza sempre più integrata, sempre più partecipata Il che non significa che le forze dell'ordine devolvano questa loro competenza, questa loro attribuzione ad altri Ma semplicemente collaborano con le forze dell'ordine che in certe realtà Pensiamo ai comuni piccoli del nostro territorio, ai comuni boschivi con grandi aree dove il microspaccio prolifera Se non c'è la collaborazione dei cittadini non si va da nessuna parte Quindi il controllo di vicinato non sono ronde, non sono cittadini che girano armati di bastoni Questi fanno giustizia da sé ma segnalano, si danno una mano quando qualcuno si allontana per cercare di vigilare sulla propria abitazione Fanno formazione, si fanno iniziative per la legalità È tutto un insieme di iniziative che danno una mano alle forze dell'ordine a vigilare e a controllare meglio il territorio Militari dell'arma ancora impegnati nel fermare lo spaccio nel territorio, in particolare nelle aree boschive I carabinieri di Costa Masnaga nel corso di un controllo lungo via provinciale a Rogeno Hanno trovato ben 217 grammi di eroina, 55 di cocaina e 25 di hashish confezionati in busti di celofan La droga è stata abbandonata da tre uomini che alla visa dei militari si sono dati alla fuga nella boscaglia Rivenuti in un prato a calco tre quadri, sul retro una dedica e una data Probabilmente sono stati rubati e abbandonati dai ladri, i vigili cercano i proprietari Una dedica e una data, 1983 È mistero sulle tele ritrovate in un prato nella parte alta di calco A notarlo è un passante che ha raccolto i tre quadri e li ha consegnati alla polizia locale Come siano finiti nei pressi di via donatore di sangue non è chiaro Pensiamo siano provento di furto, spiegano i vigili Erano smontate nella parte posteriore Come se qualcuno avesse cercato di capire se all'interno vi fosse nascosto qualcosa Recentemente si sono verificati numerosi colpi in zona I ladri potrebbero averle semplicemente gettate nel prato Le tele, che rappresentano tutti i paesaggi, due sul retro come detto, hanno una dedica molto personale Sono custodite presso il comune di Calco, che ha pubblicato un avviso di ritrovamento sull'albo pretorio online Rimarrà fisso per due settimane, con la speranza che qualcuno possa reclamarne il possesso La legittima proprietà dovrà comunque essere provata Per questo al momento non è stata diffusa la fotografia dei quadri, il cui valore non è ancora accertato Nel caso non si trovi il proprietario entro un anno, la legge prevede che le tele vengano riconsegnate a chi le ha trovate In un prato, a Calco, abbandonate e chissà forse preziose Il 19 marzo erano apparse su muri e su cartelli di introbio scritte contro le istituzioni e le forze di polizia I carabinieri, tramite le immagini di videoserveglianza e da riscontri visivi e fotografici, sono riusciti a individuare i responsabili Sono due minorenni del posto, nelle loro abitazioni sono stati trovati vestiti indossati quel giorno, le bombolette spray utilizzate I due giovanissimi sono stati denunciati per imbrattamento e returpamento aggravato di cose altrui È partita il 12 aprile la distribuzione dei sacchi rossi in 5 punti di ritiro allestiti in città I nuovi sacchi dotati di microchip per la raccolta puntuale sostituiranno quelli trasparenti a partire dal 1 luglio Soddisfazione tra le file di ambientalmente, gli esponenti di Lecco merita di più, ritengono invece insufficiente la campagna informativa È iniziata solo da qualche giorno la distribuzione dei nuovi sacchi rossi per la raccolta puntuale e già non mancano le polemiche Alcuni rappresentanti della lista di opposizione Lecco merita di più, ritengono insufficiente la campagna informativa messa in atto dal Comune per illustrare lecchesi il cambiamento e inadeguate le modalità di distribuzione dei sacchi Crediamo che affidare a poche parole scritte su una brochure la comunicazione di questo passaggio complesso e cruciale se non si ha la modalità corretta, commentano e aggiungono e riteniamo che gli orari giornalieri stabiliti per il ritiro siano ristretti e inadeguati non solo perché inadatti alle esigenze lavorative delle famiglie ma anche perché potrebbero essere, soprattutto al sabato, fonti di assembramenti più che mai da evitare in questa fase di prime riaperture Da lunedì 12 aprile è dunque cominciata la distribuzione dei sacchi rossi in 5 punti di ritiro allestiti in città I nuovi sacchi che sostituiranno quelli trasparenti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sono dotati di un microchip con un codice associato ad ogni singola utenza Questo permetterà al momento della raccolta di conteggiare conferimenti effettuati da ciascuno Una piccola rivoluzione già partita con successo nell'Oggionese e attiva a Lecco dal 1 luglio Soddisfazione tra gli esponenti di Ambientalmente e Lecco La raccolta puntuale è uno dei traguardi ambientali cruciali che dimostrano quanto per noi la città non possa aspettare nell'andare verso una maggiore sostenibilità ambientale, commenta il capogruppo Alessio Dossi Con la puntuale speriamo di aumentare la differenziata ma soprattutto nel medio termine di ridurre la produzione di rifiuti in generale Ci tengo a ringraziare la nostra assessora Renata Zuffi e gli uffici del Comune come anche Silea per lo sforzo messo in campo, conclude Dossi Sarà un momento di cambiamento ma che è finalizzato a preservare l'unico pianeta che abbiamo Anche le farmacie e le chiesi promuovono il progetto Mimosa lanciato a livello nazionale da Federpharma contro la violenza di genere In ogni negozio della provincia le donne potranno trovare un punto di ascolto Le farmacie scendono in campo contro la violenza di genere Anche a Lecco è stato lanciato il progetto Mimosa iniziativa con la quale tutti gli esercizi di questa categoria metteranno a disposizione un punto di ascolto per le donne In questo momento e non solo in questo momento la violenza nelle case contro le donne è veramente importante Ora ha maggior ragione con il lockdown, con la chiusura delle case Progetti di questo genere sono già stati fatti e pensate che solamente in 20 giorni le locandine che sono 100 sono state prese da donne che ne avevano bisogno Il progetto consiste, come si legge qua, giù le mani dalle donne Non si toccano, in farmacia, in tutte le farmacie della provincia di Lecco così come in tutte quelle nazionali ci saranno dei volantini a disposizione delle donne Ci sarà un angolino riservato solo per loro Prenderanno quando e cosa vorranno Su questo volantino ci sono tutti i numeri dei centri antiviolenza Ci sono il come comportarsi E in più c'è anche un progetto Vodafone Perché questo progetto è stato anche sponsorizzato da Vodafone Grazie a una collaborazione molto intensa La violenza delle donne è una cosa tremenda Veramente tremenda E dobbiamo combatterla Noi siamo su tutto il territorio, in tutte le farmacie Tutte le donne possono entrare Le nostre porte sono sempre state aperte Sempre e comunque In più, questo, forse non tutti i colleghi saranno d'accordo La maggior parte delle persone che sono dietro al banco Delle dottoresse che sono dietro al banco Sono donne E quindi questo è un progetto che sentiamo intensamente Nel profondo del nostro cuore Neve di primavera sulle nostre montagne Questa settimana Itinerari ci porta in cima al Monte Lago Per un'emozionante salita scialpinistica Appuntamento stasera alle 20.20 E replica sabato alle 19.50 Buongiorno ragazzi Avete visto che sorpresa Le 6.30 stamattina Buffera di neve Adesso giornata spettacolare Con un buon 15 cm di neve fresca Da sparare dai tavoli Che ne dite? Eccoti qua l'attrezzo del mestiere Bisogna pur guadagnarlo il taragnino a mezzogiorno Ci tocca proprio Da che parte di inizio io qua? Ah dove vuoi? Ciao ciao ragazzi Ciao grazie Arriva Roberto va Arriva Roberto Arriva Ciao Grazie E qui al rifugio ci raggiunge questa mattina Roberto Ganassa Un fotografo, una vera istituzione per queste montagne Sono le mie montagne, sono le mie valli Passo spesso con la neve, l'estate, l'autunno Un po' tutte le stagioni Ci sono sempre situazioni diverse da fotografare Oggi andiamo al Montelago È un posto panoramicissimo Bellissimo C'è quel crestone Che dopo andremo a percorrere Che veramente sembra di volare Bellissimo Poi la chicca è Che si vede il lago di Como Ed è veramente fantastica Guarda è arrivato anche il sole E allora approfittiamo e andiamo Speriamo di non trovare troppo vento Con noi tra l'altro abbiamo anche dei tuoi amici Sì, c'è Mirko e Leonardo 12 anni che ci accompagneranno Fine Cima Immagini ancora una volta meravigliose Una puntata da non perdere È tutto per questa edizione del Telegiarnale Grazie per essere stati con noi Seguiteci anche sui social Vi auguro una buona serata Grazie a tutti